di sana esatto e andiamo velocemente alla trave con Martina Maggio si Anjambe cambio Anjambe Anjambe sul posto serie acrobatica dietro flick salto teso smezzato salto teso smezzato si sembra che vada a tempo con la musica del corpo libero potrebbe essere un giro e Anjambe cambio ad anello con un piccolo sbilanciamento anello che è un elemento di valore e ruota senza mani precisa ribaltata senza e e un decimino lasciato per strada costale invece molto ben controllato molto bella la parte a terra bene la parte coreografica ritmo dell'esercizio vedete com'è sostenuto come va veloce come un minuto e mezzo è passato molto rapidamente un avvitamento e mezzo di uscita bravissima contentissima brava brava dove vai va dal presidente ha gridato e vai mi sa che è contenta sì 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 e comunque ti dicevo non può essere che magari sentiva la musica e e e l'ha fatta un po' sua ha dato il 5 all'aramore a me capitava fantastico dicevo che che a me capitava che se la musica che c'era sotto era di mio gradimento e gli davo quel ritmo ritornando al discorso delle giovani viola perazzini è un'altra rivelazione l'ho conosciuta in Lossenburgo una ragazza straordinaria un atleta talento cristallino simpaticissima e quindi speriamo di averla microfono la prossima volta perché potrebbe essere una grandissima rivelazione anche al microfono e abbiamo dato il pesante fardello di erede di lara mori ma secondo me le potenzialità ce le ha sì